Dopo due concerti da tutto esaurito, l'orchestra instabile di Arezzo annuncia gli appuntamenti dei prossimi mesi. Sabato 23 febbraio suonerà Cortona al Teatro Signorelli in uno spettacolo dal titolo Mogol, Racconta Mogol. Sarà sempre Cortona ad accogliere sabato 23 marzo lo spettacolo inedito a forza di essere vento, un viaggio su De Andrè e la filosofia. Nel mese di aprile Oida si cimenterà invece nello spettacolo Suona Milaida, un divertente dialogo tra l'orchestra e il quartetto Euforia. Oida quest'anno si fa in quattro, non solo la musica si diffonde, ma si fa in quattro perché va nella provincia e grazie anche al contributo e all'accoglienza di molti comuni noi possiamo così arrivare dappertutto e diffondere la nostra musica. In modo particolare ci sono due eventi sui quali mettere l'attenzione. Uno, mi raccomando, è all'arrivo di Mogol, Mogol che a febbraio arriverà e sarà con noi in un evento, Mogol Racconta Mogol. La cosa ci ha subito preso e entusiasmato perché ci siamo resi conto che poteva essere una bella opportunità anche per il territorio e per le associazioni del territorio, per le associazioni e per i loro artisti che comunque avrebbero avuto anche delle opportunità più importanti rispetto ai nostri teatri di provincia. Oida è un'orchestra nata poco più di due anni fa dalla collaborazione e impegno delle realtà musicali e culturali più importanti del territorio aretino. Si è definita instabile per la volontà di misurarsi con linguaggi sempre nuovi e di andare verso direzioni innovative mantenendo sempre un ottimo livello artistico. Tra pochi giorni si esibirà nel nuovo continente grazie alla collaborazione con Rondine, Cittadella della Pace. Porteremo uno spettacolo bellissimo che si chiama Dissonanze in Accordo, New York, Washington e Toronto per accompagnare appunto questo progetto bellissimo di Rondine che si chiama Leader for Peace che è stato presentato appunto pochi giorni fa anche dal Papa a Roma e ha dato proprio una spinta fortissima al Santo Padre. Quindi andremo alle Nazioni Unite a New York, a Washington e appunto all'Università di Toronto presentando questo spettacolo che è uno spettacolo e che è molto toccante in quanto ci saranno gli studenti di Rondine che porteranno le loro storie più intime, insomma anche di sofferenza ovviamente, che puoi travello di Rondine che che conosco poi Grazie a tutti